Da quando sono venuto in Italia, qualche volta ho visto la televisione. Ho trovato a un filosofo che si chiama Diego Fussaro. E qualche volta io l'ho ascoltato perché mi sembra logico, coerente. E qualche volta l'ho ascoltato anche in YouTube. Quello che è accaduto è che durante queste settimane lui ha fatto una presentazione riguardo al 666 che si parla nel libro di Apocalipsi riguardo alla bestia e anche al marchio della bestia. Lui ci racconta che durante il mese di marzo, e io vi lascio tutto nella descrizione, che Microsoft in Washington durante il mese di marzo, loro hanno fatto come dire una patente di un crypto chip dove loro possono avere una moneta che si può mettere sulla vita della persona per comprare e vendere. Vi lascio le informazioni e vi prego di ascoltarlo. Io ho dovuto pagare una persona per fare una registrazione, parole per parole, per capire questo meglio. Ma allo stesso tempo accade che c'è un canale Italia che parla del nuovo ordine mondiale. E questo a me mi ha colpito perché durante queste settimane scorse io avevo letto il libro di Apocalipsis. E lì mi sono trovato che la bestia, una bestia per dire, si chiama il re dell'abismo, dell'abisso, si chiama Avalon in greco, in ebreo, e non l'ho trovato più nel Nuovo Testamento. Io avevo fatto una lettura, ma alla fine l'ho trovato nel Vecchio Testamento. E lì ho trovato qualche versetto dove trovo il nome e avevo fatto un studio riguardo a che cosa significa questo nome nel testo ebreo. Ora, pensavo a fare un video su questo, ma le tre cose sono venute insieme. Ora, io vi racconto tutto questo perché durante queste messe che stiamo iniziando farò qualche commento riguardo al nome in ebreo, ma anche ho fatto un studio riguardo a otto cose che non si devono fare contro lo Spirito Santo di Dio. Farò uno di ognuno perché questo tutto, sette si trovano nel Nuovo Testamento, uno si trova nel Vecchio Testamento e lo farò del testo lingua originale. Ed anche farò un studio di 20 promesse nel libro di Deuteronomio perché adesso abbiamo bisogno noi di iniziare a vedere avanti per conquistare nostro presente futuro. Doviamo iniziare a mettere in nostra vita le parole di Dio adesso che iniziamo a uscire di questa situazione. Mi chiamo Augusto Girone, vi prego di suscriverti nel mio canale ed anche di condividerlo con tutte le persone che tu ami, famiglia, amici, così tutti possiamo condividere questo tempo il mese di giugno insieme e anche in questo futuro. Grazie. Grazie.